Buongiorno, mi chiamo Massimo Crispignani e la mia storia in breve è questa. Abbiamo creato con la mia compagna questi prodotti della Luxon Skin. Luxon Skin è il brand, il nome del brand. E niente, vorremmo venderli online, solamente che abbiamo avuto molte difficoltà perché pensavamo che adesso abbiamo il prodotto e si vende da solo, invece non si vendeva un bel niente. Abbiamo provato con i metodi classici delle sponsorizzate, influencer, che promettevano commenti falsi sui loro post, che poi abbiamo visto e quindi non riuscivamo a far decollare questo prodotto ed eravamo molto frustrati. E poi abbiamo conosciuto Corrado. Corrado è una persona che ci piace molto perché una delle sue particolarità è quella di andare al sodo nel senso che sa esattamente quello che serve al cliente in quel momento. il che, appunto, non vuol dire che sia sempre quella cosa ma secondo le necessità della situazione può trovare delle soluzioni che possono aiutare questo business a decollare. Quindi noi siamo molto soddisfatti al momento stiamo seguendo i suoi consigli quindi lui è poi estremamente chiaro in quello che dice chiaramente c'è da lavorare molto non è che lui ti risolve i problemi così lui ti dà la via le soluzioni ma poi quelle le devi attuare da solo nel senso che c'è da fare molto lavoro imparare delle cose tecniche che non conoscevo assolutamente però se si lavora e si seguono i suoi consigli sono sicuro al 100% che si avrà successo. grazie a tutti grazie a tutti